Le richieste di incrementare le corse nel periodo estivo, con nuovi collegamenti anche la domenica, sono arrivate anche dai territori. L'utenza delle due linee di LFI in Casentina e Valdichiana non è solo composta da pendolari e studenti dunque, ci sono anche i turisti. Questo è un segnale concreto per essere attenti a quello che è stata un po' la richiesta, la sollecitazione delle amministrazioni comunali e anche in alcuni casi dell'utenza, era un nostro progetto già all'inizio, è stato reso possibile a questo punto grazie anche a una collaborazione con la regione toscana dal 16 di giugno fino al 7 di luglio, potenzialmente anche un po' dopo, però vedremo se le condizioni lo permettono, noi avremo il servizio la domenica. La stessa cosa sarà nel mese di dicembre e questo è per dare una vera attenzione a quella che è una risposta sul territorio. Noi crediamo che il treno sia un mezzo assolutamente utilizzabile da tutti e quindi per poterlo fare dobbiamo permettere che questo servizio venga fatto nei giorni e in particolar modo nei giorni quelli festivi in questo caso. Per cinque domeniche forniremo all'utenza, ai nostri tanti utenti, un servizio anche domenicale con due corse, in andate e due corse di ritorno nel pomeriggio per poter raggiungere sia il capoluogo e sia le località in periferia nelle vallate del Casentino e della Val di Chiana con orari che sono orari a nostro avviso confacenti per quanto riguarda le necessità degli utenti quindi con un primo treno che partirà all'incirca alle 14.30 ed un ultimo treno che farà rientro al Capoligna per le 20. Quindi avere tutto il pomeriggio a disposizione per poter circolare sia per la città di Arezzo sia per le nostre belle vallate. Grazie a tutti!